Buonasera a tutti e bentornati alle team di 10 Reale. Buon salve a tutti! Come mai? Come mai? Come si chiama la birra di questa sera? Faro, è la notte. Un faro. Ti illumina. Ti illumina i saccaromices. I bretta, i bretta. Allora, la birra di questa sera si chiama Faro, del beer in Pitcho Lindemann. È una birra belga di cui andremo a parlare dopo la sigla. Allora, Andrea, di Sioano, abbiamo detto che si chiama Faro, sia come nome che come stile birraio. Parla un po' di questo stile, da dove deriva, che cos'è? Allora, intanto andiamo in Belgio. Questo stile prevede i 20 ibu, orientativamente, i 3,8 di piacca. Penso che quello che preghiamo noi sia, tipo, abbastanza, quasi, no? Non mi piace. E poi, il 35 è BC. E BC sta per European Brewing Convention. C'è una convenzione a livello europeo che determina la colorazione della birra. È una colorazione che può essere determinata prima ancora di brassare la birra, semplicemente facendo il calcolo del colore in EVC per ogni tipo di manto che viene utilizzato. O anche, in alcuni casi, anche per i luccoli. In questo modo, attraverso questa formula matematica, si saprà prima di brassare la birra di che colore verrà fuori. Solo vuole vedere. Sono tutti dati simpatici da conoscere, anche per avere un'idea di che cosa porta una birra ad avere un certo tipo di colorazione piuttosto che un'altra. Inoltre, dobbiamo dire che uno sia molto antico, medievale, bellissimo, che era fatto, appunto, per donne e bambini, al fondo strano. Però, anche i bambini devono diritto alla loro birra. All'epoca. La poppata, la poppata di birra. Ma, anche qui, la motivazione è abbastanza semplice. Nel medioevo l'acqua, molto spesso era inquinata, aveva batteri, germi, eccetera, eccetera. Utilizzare la birra serviva a far sì che l'acqua fosse bollita e quindi diminuiva i rischi di malattie. Molti, infatti, preferivano la birra all'acqua normale perché trasportava molto meno malattie. E mica lavora poco a Lempner, dove qualunque invenzione poteva essere mortale. Guardate voi, guardando un video su YouTube, casualmente, che andate a capire tutte queste cose. E non fuori per testa. Poi, con passato il tempo, lo stile birra si è perso. C'è sempre Tio Angela che... Comunque, lo stile birra che ha passato il tempo si è sempre perso fino a che nel 1978 Lindemann, il rifiuto di cui stiamo parlando questa sera, l'ha, bene o male, riscoperto. Il resumato tra la storia birra del Belgio e dall'epoca, quindi dal 1978 ad oggi, questo stile birraio occupa il 7% della produzione totale del birrbicio. Che sono numeri, sono ettorite. Lo so, so, anche quello. Ma soprattutto sono ettorite. È una delle birre più a buon mercato del Belgio come stile birraio e viene utilizzata quando altre birre non sono disponibili, quando non si vuole bere qualcosa di gradazione alcolica elevata. per iniziare a bere qualcosa di acido. E questo è il motivo per cui la stiamo presentando. Perché questo è uno dei primi step che consigliamo per avvicinarvi al mondo delle birre acide, delle Lindemann. Che dici? Stappiamo? Andiamo. Ah, riguardiamo che questa birra però fa i 4,5 gradi. e la gradazione alcolica da session quasi. Sì, beh. Se volendo. Come potete vedere la bottiglia è da 25 cl. Un formato un po' inusuale per l'Italia ma abbastanza tipico in Belgio soprattutto per questo stile. Perché spesso le lambiche in generale che faranno in uno specifico in grandi quantità sono un po' difficili da bere. Possono risultare stancanti. Invece la dose della 25 cl è perfetta affinché una persona sola in un bicchiere riesca a colarsela. Drinkarsela. Nel giro di poco tempo. Cioè, comunque sentimo ecco stiamo dicendo la stessa cosa. Il profumo già arriva qua. E' uno sfumantino più zuccherato. Un fragolino. Ma questo perché tu lo sai perché? Eh, io lo so perché. Perché lo stile Faro parte da una mas glandic invecchiata nel caso specifico di questa birra invecchiata per almeno un anno in botti di rovere. Sto l'altro ho detto rovere, lo hai indovinato la nuova e l'altra volta. Ciao, buonan. E a questo lambic invecchiato almeno un anno in botti di rovere viene aggiunto dello zucchero calmito. In questo modo la birra risulta essere molto più dolce si abbassa il pH e continua la fermentazione e crea il bucchio di profumi che sentiamo ora. Color? 35bc mi hai giocato sporco sto giro. No, per me aspetta è un aranciato il caramello si effettivamente si è un aranciato schiuma leggera leggera però va a sporcare le pareti allora notare mi intrippa c'ha quell'acido che mi ricorda belle cose perché la base è buona ciao a te capiamoci è tutta buona no perché poi purtroppo ho anch'io dei colleghi che dicono ah voi fate video ma io vi conosco e non credo quando fate un video di una birra che non vi piace occhio noi abbiamo i nostri gusti è giusto però quando è giusto che una birra è da dire che è buona sì quindi lo diciamo quello che dobbiamo cercare di fare quando facciamo queste video gustazioni è cercare di essere autentini quindi e che siamo cazzoni ecco quindi cercare di dimostrare far vedere quanto una birra sia tecnicamente fatta bene quindi tecnicamente non gli si può dire nulla ma scoliamocela perché te no il tempo scorre il tempo scorre cheer allora l'aroma era fruttato ricordava appunto frutta matura un leggero acidulo sentivo delle note legnose e di santo il belmo caramelo perché e ha palato riconfermo esattamente quello che era l'odore molto caramelo carbonazione piatta si è tipico di questo stile non me l'aspettavo neanche in compenso è un'ottima birra da pericino poi ti prendi uno spritz c'è infatti c'è un'ottima una fa costa di meno di più eccomo la morta della costa picca sabita ecco giustissimo detto da uno che non parla siciliano vero? ok hai una piccola diatriba interna al locale comunque comunque va bene credo sia giunto il momento mi dai il video libero? vati vati ok e allora se il video vi fosse piaciuto mettete mi piace sulla nostra pagina facebook e iscrivetevi al nostro canale se il video non vi fosse piaciuto ebbene ci daremo su e poi mi da la pancura per favore vabbè devi fare quello che fai sempre devi battere ok ok ciao 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 ciao